Purtroppo siamo stati anche un po' sfortunati di aver preso un primo gol su punizione, quindi non ci cira neanche dalla nostra. Se non concretizziamo le possibilità di fare gol, diventa comunque difficile andare a affrontare una delle migliori squadre del campionato con una squadra così ben organizzata come il Napoli. Sassuolo, Udinese, Milan, Chievo, nella vostra testa c'è l'obiettivo di 30 punti del terzo e ultimo posto della classifica? Io penso che dobbiamo affrontare una partita dopo l'altra senza fare tanti calcoli, quindi dobbiamo andare ogni settimana al campo, lavorare e cercare la domenica di portare via la vittoria o comunque portare via i punti.